Ma eccoci qua, benvenuti sul canale! Oggi prepariamo una combinazione che adoro e che adoro sanno in tanti nachos e guacamole Facciamo anche i nachos fatti in casa Pensate già alla soddisfazione che avremo quando assaggeremo i nachos e diremo Sì, questi qua li ho fatti io Queste due preparazioni ovviamente sono perfette per proporre un aperitivo in casa Io partirei già con la preparazione del nachos Farina di mais precotta In questa ricetta uso anche un po' di farina bianca Che ci aiuterà a rendere più malleabile e più facile da stendere il composto Se siete intolleranti al glutine andrà benissimo la maizena o l'amido di mais Un cucchiaino colmo di sale Due cucchiai di olio Aggiungiamone poco alla volta Subito fatto Lo divido in quattro O metteteci tutto il peso che avete Schiacciate un sacco, deve essere veramente sottile Eccolo qua È un velo E non fate fatica e se lo dividete in così tante parti Sarà mezzo millimetro forse Ciotola Il diametro di circa 10 cm E poi dividiamo questi dischi in 8 I primi 16 nachos sono pronti Adesso procediamo con gli altri E se avete paura che la pasta ci secchi Basterà coprirla con la pellicola Altrimenti come faccio io Se sento che risulta più asciutta rispetto a prima Aggiungo un goccio ma poca acqua Impasto E poi comincio a stenderla Tutto il peso La pasta deve soffrire Ok Una volta bella La cosa bella di questo impasto è che Essendo con poco glutine O addirittura senza glutine Se lo fate senza glutine Non si tira Non si ritira Non si Resta così Una volta che lo stendete Resta così E poi comunque non è tanto delicato Io lo prendo così Impasto perfetto C'è poco da fare Guardate che carini Olio di semi in una padella Non ne serve tanto A scaldare Calcolate circa due dita E poi se avete il termometro 175-180 gradi La temperatura perfetta Se invece non l'avete Prova a stecchino Quando lo immergete E fa le bolle Vuol dire che è pronto Perfetto Una volta che risultano croccanti Lo sentite proprio con la spatola Sono pronti L'importante è che non si dorino troppo Adesso facciamo una prova Sono belli croccanti Asciutti Cioè l'olio non lo vedete Forse sulla mia faccia C'è un po' d'olio Ma perché ho la faccia grassa In ogni caso Siccome so che è una domanda Abbastanza gettonata Questa qua Potete anche cuocerli al forno Vengono poi comunque Risulteranno ecco Meno Ondeggiosi Sicuramente Però vengono bene Basterà metterli su una placca Ci mettete sopra Un filino di olio E acqua Proprio Fate una Una Miscela di acqua e olio Stessa quantità In un bicchiere In una ciotola Così Spennellate questa miscela Una a una Su ogni Su ogni nachos E carta forno ovviamente Sulla teglia I nachos ben disposti In modo regolare E li cuocete in forno A 200 gradi Modalità statica Per circa 7-8 minuti Al massimo Adesso con l'avocado Facciamo la guacamole Che è la sua morte Pomodoro ramato E lo Anzi no Un attimino Con un coltellino Vedi che è un po' impossibile No no ce la faccio Faccio una piccola croce Qua Su questa parte E lo tuffo per un minuto In acqua bollente In questo modo Sarà molto più facile Rimuovere la pelle Ora immergiamolo Per qualche secondo In acqua fredda E poi lo possiamo sbucciare O con le mani O con un cucchiaio Rimuoviamo anche i semi E lo taglio a cubetti Teniamolo da parte Così Io qua ho Un cucchiaio di pepe nero Un cucchiaio di semi Di coriandolo E uno spicchio di aglio Volendo sia il pepe Che il coriandolo Li potreste già comprare tritati Però così sono più buoni Profumati Li dobbiamo sminuzzare Io uso un cucchiaio Mi trovo sempre molto bene Oppure potreste usare Un batticane O un pestello Adesso che gli ho già dato Una pestata grossolana Prendo l'aglio Rimuovo come sempre L'anima Che è meglio toglierla Tritatina Qui Sopra le spezie Adesso ancora un po' Con il cucchiaio Vuoi fare la guacamole In un frullatore La guacamole deve essere grossolana Come salsa Avocado Tagliamo a quadretti Mi raccomando deve essere morbido E l'avocado Ok Porchetta Uniamo subito Il succo di mezzo lime Dà una leggera acidità Profumo E ovviamente impedisce All'avocado di ossidarsi Una bella presa di sale Aggiungiamo le spezie Il pomodoro Mescolatina E anche la guacamole è fatta Voilà Adesso mettiamo un po' di music E facciamo lampe Io qua ci vedrei benissimo Uno spritz E me lo preparo anche Sì sì Aprirò una bottiglia apposta Ma chi se ne frega L'ho anche comprata Io mi scusate Potrò farlo No Un po' di ghiaccio Un brindisi a voi Ho un po' abbondato Adesso ragioniamo La grandissima Non sono da solo E a bere Sono qua con voi Sembro la d'urso A dire così però L'aperitivo perfetto Questo qua Nachos Guacamole E spritz A posto Per me Io sono a posto così Replicateli questi qua Replicateli E se li replicate Io aspetto anche I tag su Instagram Lo sapete Ci vediamo là Per altri contenuti Di cucina Intrattenimento No veramente fateli Perché oltre ad essere Un evergreen No Che va bene sia per Cioè va bene tutto l'anno Questo qua Non passa poi mai di moda Sono veramente buoni Cioè fate una bella figura Sia con gli altri Che con voi stessi Niente Spero di avervi convinto Ci vediamo Molto presto Lascio qua altri due video Se non li avete ancora visti Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre Aggiornati sui contenuti E per sostenermi Attivando la campanella Magari E invece qua c'è Il collegamento Con il blog Per vedere tutte e due Le ricette scritte Ci vediamo Come ci siamo detti Molto presto E grazie come sempre Per essere stati qua E per essere arrivati Bevo e mangio Ovviamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti